Ognuno potrà esprimere la sua opinione, l'importante sarà non istigare a un crimine d'odio, quindi qualcuno potrà dire che due uomini non sono una famiglia, che due donne unite civilmente non sono una famiglia, sì potrà continuare a dirlo, se a quella frase unirà e quindi meniamoli tutti, avrà istigato all'odio e sarà perseguito. Quindi ognuno potrà esprimere la propria opinione senza istigare all'odio. Noi abbiamo il dovere morale anche istituzionale da quando abbiamo aderito alla rete Redi d'Italia di educare le nostre nuove generazioni all'antidiscriminazione e quindi eventi di questo genere che ci fanno capire che cosa significa portare avanti una legge come quella che è la legge Zanna, come ci ha spiegato prima la senatrice Cirinna, ci fanno capire quanto sia importante perché bisogna modificare il nostro modo di pensare, bisogna modificare le nostre azioni, bisogna iniziare a pensare in modo diverso nei confronti di tutti e quindi episodi come questo, eventi come questo ma anche tante altre iniziative che noi andremo a portare avanti nel nostro territorio sia nelle scuole, sia nelle associazioni, sia fra i lavoratori per sensibilizzare e far capire quanto è importante che nessuno venga discriminato e maggiormente se la discriminazione riguarda la sua identità e il suo orientamento sessuale. A Fiumicino sono già parecchi anni che lavoriamo su questi temi, l'anno scorso abbiamo affrontato un viaggio della memoria che era incentrato appunto sull'olocausto degli omosessuali quindi già a livello culturale nelle scuole siamo arrivati a toccare queste tematiche, abbiamo fatto anche eventi durante la notte bianca quindi diciamo che Fiumicino dal punto di vista dei diritti civili è sempre stata molto avanti con l'assessore Anselmi cercheremo comunque di intraprendere delle iniziative per sensibilizzare ancora di più il territorio su queste tematiche. Abbiamo presentato tramite la capogruppo del PD una mozione a favore della DDL ZAN e speriamo appunto che ci sia una condivisione unanime in consiglio comunale. Grazie.